Ciao a tutti, io sono il D-Landogofilo. Oggi recensione dell'ultima storia che compone questo Marxi D-Landog Oldboy di luglio 2015. Stiamo parlando di scatole cinesi, testa e sceneggiatura del signor Di Gregorio e disegni di Montanare Grassani. Purtroppo, come è già accaduto nel caso di Caramel Road 7, altra storia che troviamo all'interno di questo Marxi D-Landog, anche scatole cinesi, va un po' a rimarcare la trama dell'album mensile numero 346. Infatti, nell'album mensile numero 346, D-Land si vedrà partecipe, contro la sua volontà, di un viaggio onirico davvero molto straziante. Qui si ripercorre lo stesso tipo di percorso, però in chiave classica. Quindi, D-Land, che nell'album mensile numero 346, viaggia attraverso un mondo contemporaneo. Mentre qui troviamo un D-Land, in questo scatole cinesi, che percorre un viaggio classico, con mostri classici, che affronta le sue più classiche paure, claustrofobia, vertigini. Una storia che, in generale, risulta davvero essere molto 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 buona. Mi è piaciuta, però, peccato che sia praticamente un quasi copia e incolla dell'album mensile numero 346. Questa storia è l'album mensile numero 346, però in chiave anni 80. Ecco, vorrei subito innalzare una critica e dopo ci spostiamo subito sulla recensione. O meglio, un appunto che voglio fare a questo Maxi D-Land Dog Old Boy. Qui c'è scritto tre storie complete e inedite, ma a me non sembrano troppo inedite, perché per l'appunto ricalcano una trama molto ispirata a quella dell'ultimo album mensile in edicola. Quindi mi piacerebbe trovare nei prossimi D-Land Dog Old Boy delle storie veramente inedite che vadano a distaccarsi completamente dalla serie mensile. Altrimenti, diciamo, mi ritrovo un po' nei panni di Dino 95. In questo momento io sono il D-Land Dog Offlow, mentre mi sembra quasi di essere Dino 95, ovvero di fare le recensioni di telefono e di trovare i dettagli. Come sapete ho l'altro canale YouTube dove faccio recensioni di telefoni. Scatole cinesi e l'album mensile numero 346 si assomigliano molto, quindi mi sembra quasi di fare un confronto tra smartphone e trovare le differenze. Quindi mi piacerebbe nei prossimi Maxi D-Land Dog Old Boy ricoprire un ruolo di recensore di D-Land Dog. Quindi in Bonelli cerchiamo di fare storie più diversificate tra il nuovo ciclo e il D-Land Dog classico. La trama comunque andrà a sfumarsi in una maniera leggermente differente, ma l'idea di base è quella. Detto tutto questo pippone qua infinito. Dunque, come già detto in fase di presentazione, apprendente all'album mensile numero 346 però in versione anni 80, dove D-Land ripercorrerà tutti i suoi mostri del passato, in generale come mostri si intende anche tutte le sue fobie, e tutte le sue paure, un panorama che spazia tra scene concrete, scene diciamo, scene si può dire oniriche proprio a livelli proprio molto spinti, quindi un onirico che ritorna in grande stile in questa storia. Però, qual è la sfumatura? Cos'è che diversifica questo scatole cinesi da E-Cenere Tornerai? Quindi l'album mensile numero 346, Graucio. Se nel 346 Graucio ricopre un ruolo da gente segreto, non ancora ben delineato, un Graucio che fa dei sottogiochi a D-Land, però non penso con cattive intenzioni, qui troviamo invece un Graucio che viene cambiato, quindi Graucio non ricopre più il ruolo da gente segreto, ma Graucio fa parte di un'altra sorpresa per D-Land. Infatti, il Graucio originale in questa storia è morto. Questo non è Graucio, ma è Edwin. Edwin che è un sosia, perché, come sapete, il Graucio, quello originale, andava a tutti gli incontri per sosia. A un certo punto sulla strada del ritorno è morto in un incidente stradale. Quindi questo Edwin, o Erwin, non mi ricordo più bene il nome, si è sostituito all'originale Graucio per continuare la messa in scena. La messa in scena che vede D-Land al centro di una famosissima trasmissione televisiva che invia a D-Land clienti falsi, invia a D-Land assistenti falsi e casi falsi per riscuotere audience. Quindi D-Land si ritroverebbe al centro di un grande fratello a sua insaputa. Una trasmissione televisiva che abusa delle geste di D-Land e del suo carisma per trarne profitto. Quindi D-Land verrà messo di fronte anche a questo aspetto inedito, ovvero che la sua vita potrebbe essere tutta una farsa. E qui D-Land ci capirà ben poco, il suo buonismo andrà un po' ad autoingannarsi perché D-Land è sempre stato buono, aiuta sempre gli altri e questa volta aiutando gli altri aiuterà in realtà degli assassini che lo uccideranno. Quindi tutti gli aspetti salienti del personaggio e dell'indagatore dell'incubo vengono messi alla prova in questa storia e viene accennato anche un fallimento. Quindi D-Land che si comporta come sempre e questi suoi aspetti salienti vengono un po', diciamo, insomma D-Land fallisce costantemente in questa avventura. Anziché trarre profitto dal suo carisma, dal suo carattere, dai suoi comportamenti, questa volta i comportamenti di D-Land avranno verso il personaggio di D-Land stesso un... insomma, diciamo, non gli fanno del bene ma gli fanno del male. D-Land si ritroverà contro tutto quello che fino a poco tempo fa era stato di buono per lui, mentre ora tutto quello che ha fatto di buono è diventato cattivo per lui. Non so se mi sono spiegato bene ma comunque più o meno il ragionamento è questo. Successivamente D-Land verrà messo anche di fronte a delle scelte di vita fondamentali. Chi sceglierebbe tra... chi va a scegliere D-Land fra Bloch e Graucio? D-Land sceglie Graucio perché vuole capire veramente chi è Graucio perché non si è ancora capito perfettamente però scegliendo Graucio sceglie la via sbagliata, quella dell'inferno e qui forse è l'unica volta in cui si trova una scena tendenzialmente horror che sarebbe questa dove uno scorpione velenoso attacca un uomo perso nel fiume della morte una roba del genere. Quindi si ricalcano molto le atmosfere dei primi D-Land dog che uscivano in edicola atmosfere che vengono ricreate molto bene D-Land addirittura muore in questa avventura ma dopo risuscita sotto forma di zombie però questo zombie in realtà non era lui perché D-Land uccide con un colpo di pistola lo zombie insomma una storia anche leggermente non sense che va ad abbinarsi perfettamente con le atmosfere davvero assurde del personaggio di D-Land dog ma attenzione a questo punto il lettore capisce a cosa è dovuto tutto questo casino dove è finito Graucio dove sono bloc dove è il vero D-Land cosa è successo è tutta colpa di Cagliostro il gatto Cagliostro che ritorna in questa avventura per chi non conoscesse Cagliostro è un gatto dotato di poteri paranormali che è apparso qualche volta nelle avventure di D-Land un gatto che si diverte a fare dispetti e a creare le sue avventure oro quindi un gatto con poteri paranormali che si diverte a ricreare nella realtà queste situazioni allucinanti quindi tutta colpa del gatto Cagliostro per cioè almeno io l'ho intesa così perché ad un certo punto si nota attraverso anche i disegni di Montanagra Cressani che proprio Cagliostro è lui l'artefice di tutto perché appare diverse volte in diverse situazioni dove D-Land si ritrova un po' diciamo spaisato quindi Cagliostro secondo me è la chiave di tutto ritorna Cagliostro dopo tanto tempo in una storia di D-Landorg parliamo ora dei disegni disegni di Montanagra e Grassani che in questa storia sono davvero molto 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 buoni livelli di dettagli davvero altissimi Montanagra e Grassani che offrono davvero nei loro disegni un livello di dettagli superiore rispetto ad altri disegni che abbiamo visto in altre storie in precedenza vi basti guardare queste scene qui al porto vi basti guardare il maggiolino di D-Land con la pioggia davvero i disegni di Montanagra e Grassani in linea di Massima sono sempre gli stessi quindi come Fisionomia del Volto però il resto il paesaggio gli sfondi i luoghi dove D-Land e Graucio si ritrovano sono davvero molto molto dettagliati più dettagliati del solito si vede che magari questa coppia di artisti in questa occasione avrà avuto maggiore tempo per disegnare in maniera nettamente migliore tutto il tutto il disegno ed ogni singola vignetta che davvero è stata ricreata molto bene che dire di questi disegni Montanagra e Grassani li conosciamo un'ottima coppia di disegnatori che in questa storia riescono ad offrire il meglio della loro arte perché davvero grazie a questi dettagli il disegno diventa più corposo più incisivo più convincente più bello proprio da vedere l'unica scena Montanagra e Grassani secondo me sono i più bravi a ricreare lo splatter l'unica scena splatter che troviamo in questa avventura è quella che vi ho fatto vedere prima quella dello scorpione dell'uomo che viene punto nell'occhio da questo scorpione questa scena è stata ricreata davvero alla perfezione anche diciamo l'espressione di terrore di quest'uomo è stata ricreata davvero molto molto bene quindi storia buona disegni buoni peccato che in definitiva questo maxi Dylan Dog Old Boy di luglio 2015 e per ora fortunatamente solo questo ricalca un po' troppo la trama dei vari albi mensili che troviamo in edicola questo Dylan Dog Old Boy che ricalca troppo la trama in particolar modo dell'album mensile numero 346 voto finale che do a scatole cinesi è un 7 e mezzo voto conclusivo sommativo che do a questo maxi Dylan Dog Old Boy è un 8 meno per il momento è tutto se questa recensione ti è piaciuta o ti è stata utile condividila su facebook dove vuoi con chi vuoi su qualsiasi social network possibile e inimmaginabile iscriviti al canale per manere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog e noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'Ineratore dell'Incubo e noi ci vediamo